Nella direzione regionale del PD nasce la fronda anti De Luca. Marco Sarracino affonda la possibile ricandidatura del governatore alle regionali tra due anni. Nel 2020 non vorrei che ci ponessimo il problema della leadership in Campania solo dopo aver perso. Se non facciamo un centro-sinistra unito rischiamo di giocarci il terzo o quarto posto. Come partito dobbiamo fare un tagliando sulla regione. E se Valeria Valente difende l'inquilino di Palazzo Santa Lucia, arriva Gennaro Migliore a spargere dubbi. Bisogna essere vicini al governo regionale ma anche sapere che in due anni dobbiamo mettere in discussione tutto, compresa la candidatura alle prossime elezioni da decidere democraticamente. Da Avellino intanto l'ex ministro De Vincenti analizza il momento del partito a livello nazionale. Il partito democratico deve svolgere la sua funzione, che è quella del partito più importante del centro-sinistra. Partendo da qui puoi trovare un dialogo complessivo con tutti coloro che non si riconoscono in una politica populista e sovranista. Mentre Luigi Famiglietti si sofferma sul post-voto ad Avellino. Il partito democratico oggi deve stare all'opposizione in città di Avellino. Poi altra cosa è che magari potrà mettere in campo un'opposizione responsabile nell'interesse della città. Ma i cittadini al secondo turno hanno votato il sindaco dei 5 Stelle. Quindi adesso sarà Ciampi a dover trovare innanzitutto una maggioranza, perché una maggioranza in aula non ce l'ha. E poi a dirci qual è il suo programma di governo, quali sono le sue priorità e come intende andare avanti. Grazie a tutti.